Ed è una doppia gioia perché oggi ospitiamo importanti politici che lavorano per il bene del nostro cantone, delle nostre città e che credo solo questa festa sia riuscita a riunire sullo stesso palco il primo cittadino del nostro cantone, i tre sindaci delle maggiori città, altri sindaci, grandi consiglieri, primi cittadini, davvero un'emozione, poi bello essere qua fra amici prima di tutto e io vi saluto tutti cordialmente e davvero con tanto riconoscenza per essere qui in questa giornata. Una festa delle fragole che anche quest'anno ha un cartellone molto ricco che vi divertirà per tutto il pomeriggio e tutto ciò va ascritto all'intraprendenza del comitato organizzatore capeggiato dal vulcanico presidente Silvio Ruska che ringrazio insieme a tutto il comitato per il lavoro che svolgono e in questo ringraziamento coinvolgo tutti i volontari che permettono a questo evento di circondarsi del meritato successo, a tutti un pensiero di profonda gratitudine. Io farei un grosso applauso a tutti questi volontari e a tutti coloro che stanno lavorando oggi per farmi stare bene.